Giulio Cocco, meraviglia assoluta, col Folletto Trissinese, Trissino avanti, 2-1. L'altra parte è Sarzana, Borsi si fa vedere dall'altra parte di Rinaldis, la pallina è per Rinaldis e la rete, l'ha messa dentro, sempre lui, Francesco de Rinaldis. L'incrocio delle maglie bianche, inserti rossi, attenzione c'è l'alza e schiaccia di Pablo Saavedra, che trova la rete e fa 1-0 Grosseto. L'intromissione di Raffaele Torres e poi il gollo, e di Hisen, Davide Banini, Follonica la sblocca 1-0. E c'è il gol, e c'è il gol, e c'è il gol di Luca Stabarelli, a 14.46. Riesce a vincere il contrasto, ma la goli, serve Pinto Grimat, lo aspetta lì, ancora Pinto Lassi, Alvaro Moraes, Alvaro Moraes! Qua ci è voluta una giocata magica di un giocatore trissinese.